Svegliati schiavo. Hai avuto fin troppo tempo per riposare e non puoi immaginare quanto si è annoiata. Ho provato a divertirmi con l'altro umano. Ho già dimenticato il suo nome, ma non è importante. Non sopravvivrà a lungo. Ha piagnucolato come un bambino per tutto il tempo, dopo che gli ho mostrato chi comanda. Sono davvero sorpresa che... che tu abbia regito così... bene. Onestamente, non pensavo che avrei mai parlato con un vile umano così, ma devo ammettere che stai andando bene. Sono davvero sorpresa. È troppo presto per dire che sono impressionata e probabilmente non lo sarò mai a questo ritmo. Ti stai comportando meglio di quel... beh... qualunque sia il suo nome, ma ti assicuro che ho visto un sacco di uomini forti. Coraggiosi, alti, cavallereschi. Non hanno mai avuto una possibilità contro di me. Potevo essere colpita dai cavalieri in armatura splendente, quando ero molto giovane. Ma è stato tanto tempo fa. Non sei molto più impressionante di loro e dubito che diventerai migliore. Anche se mi rendo conto che, se voglio che tu stia sano, almeno come me, devi mangiare. Oh oh... I tuoi occhi sono diventati improvvisamente molto più interessati. Per caso ti stavo... annoiando? Proprio come pensavo. Non mi insulteresti mai così, vero, mio servitore? Bene, 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 bene. Ora, prendi questo. Non mangio cibo umano, ma so come preparare un buon pasto. Ricordo ancora ciò che ho imparato quando ero giovane. Ehi, cosa stai guardando? Mangia in fretta, non ho tutta la notte. Voglio solo che tu rieschi a riacquisire le tue forze. Sei molto più pallido di quanto eri all'inizio. Non voglio una copia di me stessa, sai? Voglio varietà, nuove cose. Mi guarderei allo specchio se volessi vedermi. Ti ordino di smettere di sogginare. Posso vederti? Davvero? Credi seriamente a quella sciocca leggenda sugli specchi? Quanto è ignorante la tua specie. È vero che possiamo far sparire la nostra immagine dagli specchi e dall'acqua? Ma è perché noi vampiri siamo dei grandi illusionisti. Scegliamo di non far vedere il nostro riflesso. Soprattutto perché è utile per avvicinarsi di soppiatto alla nostra preda. Ma possiamo facilmente vedere noi stessi in uno specchio. E ora, sbrigati con quel piatto. Mangia finché non è pulito. Mi hai dato un'idea. Userò quel piatto per vedere il mio riflesso una volta che avrei finito. Se riesco a vedere la mia vera bellezza, significa che l'hai pulita abbastanza bene. In tal caso, riceverai una ricompensa. Se non riesco a vedere, però, significa che sei stato sciatto. Gli schiavi sciatti vengono schiaffeggiati e puniti. Ora, sbrigati. Puliscilo anche con la lingua, se necessario. Voglio quel piatto pulito come l'acqua di sorgente. È finito ora. Dammi il piatto. Hmm, interessante. Eri davvero affamato, vero? Fortunatamente per te, la tua padrone è misericordiosa con quelli che la soddisfano. E questo cibo è stata la tua ricompensa. Anche a te è piaciuto. So che è così. Se pensassi diversamente, ti insegnerei a rispettare la mia cucina affamandoti. E questo piatto... L'hai leccato fino a pulirlo. Fino a pulirlo... Completamente. Questa è una piacevole sorpresa. E ti ho promesso una ricompensa per questo, no? Hmm, certo che te lo ricordi. Ora, per il tuo servizio... Ti darò... Ti darò... Un massaggio. Bravo servo. Hai già imparato come inchinarti. Scommetto che sei onorato oltre ogni misura. Sì, sì, parole molto dolci. Ma non sono ancora impressionata. Diciamo che hai raggiunto i requisiti minimi per essere un servo decente. Ora, sdraiati e scopri le spalle. Hmm, no. Non sto complimentando il tuo aspetto. Sei nella media. Ricorda, ho visto migliaia di umani attraenti. Sei solo una goccia nell'oceano. Comincerò dal tuo collo. Hmm, prevedibilmente sei rigido. I tuoi muscoli sono tutti tesi come se il tuo cervello ti stesse urlando quanto questo sia pericoloso. Per te. Rilassati, mio servo. La tua padrona ricompensa l'obbedienza. E per una volta non hai fatto nulla per infastidirmi. Sì, proprio così. Rilassati, rilassati. Sembra che anche le tue spalle si stiano rilassando. Molto bene. Davvero. Rilassati così. Rilassati, rilassati, rilassati. Ora, stai rilassato. Tranquillo. Rilassati. Rilassati. Ah, sì. I tuoi muscoli rilassati erano perfetti per far fluire il sangue. Mi è piaciuto il modo in cui hai gestito la situazione. Cos'è quella faccia? Vedo l'impressione che ti ho tradito. Non ho bisogno di dirti quando voglio il tuo sangue. Sei il mio schiavo. E se voglio qualcosa da te, lo prendo immediatamente. Pensavo avessi capito questo concetto. Ma forse hai bisogno di un piccolo promemoria. Bravo schiavo. Accetto le tue scuse. Sai, questo può effettivamente portare a qualcosa di buono per te. Continua a servirmi fedelmente e sarai ricompensato di conseguenza. Potreste anche vedere accadere cose migliori in futuro. Sì. Uscire da questa cella fredda sarebbe un buon inizio. Sono d'accordo. Non ancora, però. Hai ancora bisogno di superare un testo. Oh, no. Non posso dirti cosa sia ancora. Sarebbe troppo facile per te in tal caso. Saprai quando arriverà il momento. E fino ad allora dovrei solo vivere secondo i miei ordini giorno dopo giorno. Ti piacerà alla fine. E se non lo fai... Non vedo quanto sia rilevante per me. Devo andare ora. Forse ti darò qualcos'altro da mangiare più tardi. Se mi sentirò abbastanza annoiata da cucinare di nuovo. Sii pronto per il mio ritorno. Mortale.